doccia del bradipo nella parete verticale green wall di paolo vassalle ok è la prima doccia che si prende questo bradipo dopo che ha scoperto che qua tutte le mattine irrighiamo la parete ha inventato una doccia per bradipi non una parete verticale ecco fatto e adesso dove va non può andare più in nessuna parte deve scendere per forza ha trovato l'appiglio adesso romperà il tubo ecco che culo e lì non ti devi attaccare animaletto dai lì non ti devi attaccare molto ecologico con l'ombrella allora vediamo di me un'ombrella dai vieni giù ma non vedi che ti sei bagnato tutto non so magari voleva bagnarsi carai non è che vai più su di così ormai la miseria bell'animaletto adesso gli romperesti un poco magari ti tocca scendere ormai tornare sul tuo bel cespuglietto di bambù non puoi perché quello non c'è l'appiglio non c'è l'appiglio e da lì cadi sicuramente l'esperienza della dolce le è piaciuto molto la caramolo di arriva dai e di agarolo di arriva si sta facendo la doccia si è fatto una doccia da 40 minuti paolo hai vista cosa serve la tua green wall a fare le docce bradipi vai da papito bradipi e dai fatti tira giù ma la doccia l'hai fatta nocchiere vedi vabbè niente lascialo dire a questo punto che mi piace la doccia sta bagnando eccoci fatto anche i bradipi e i caraibi l'hai fatta la doccia aveva caldo aveva caldo e la faccia vedere a paolo si la faccia vedere all'artista della parete la green wall funziona anche come doccia per bradipi e lì non si va ora lo scrutano anche per lì ci manca pure la diva adesso la vita si basa perchè? eh però non sape d'onde agarrarsi si no è che qui non hai gambe eh talve se basa se diva se va è che metto ora la planta altra vez che lindo sempre in questa temporada verda? si è sempre in questa temporada alla prossima bene, abbiamo visto che la pared di planta funziona si, siamo arrivati a rimuovare che linda non può non può non può non può non può vuoi entrare in la oficina 6? abrimo la puerta che Marco se lo... ah, non, sta serrato ti piace la oficina? vuoi entrare in tua oficina Marco? prego vuoi entrare in tua oficina? vuoi entrare in tua oficina? c'è? che cazzo riede? è segretario visto che... segretario, eh? visto che l'altro ormai l'abbiamo consumato e tutte guarda che la tipa la sta portando delle persone venga venga quanto siamo ecologici che abbiamo il bradico sulla porta dell'ufficio, eh? quanto siamo ecologici? ti trovi più uno più ecologico di così? altro che ecco building vengono i bradi ecco impiegati ecco impiegati vieni giù da lì però entra, entra dai 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 ma no così si spaventa se lascia aperto entra stasera ti fa ma non lo voglio dentro, dai viene a usare il mac anche lui guarda che si schiaccia la mano, eh? ok, ciao ragazzina ciao ragazzi